A tutte e a tutti e grazie per la vostra presenza numerosissima, veramente sorprendente. A me il compito solo di dare i saluti. Oggi cominciamo questo corso che è stato molto apprezzato sull'Europa vista da Est. E la cominciamo con una lezione proprio sull'Ucraina. L'Ucraina nel secolo breve, la storia dell'Ucraina nel secolo breve, da Stalin alla indipendenza post-sovietica. Il professore Giorgio Cella è qui con noi, ringrazio, sarà il relatore di oggi, lo ringrazio della sua presenza e ringrazio Mirko Carattieri che ha coordinato e curato questo corso di storia. Eh sì, se la gente non... Eh sì, ha coordinato questo corso di storia come quelli degli anni precedenti. Io gli lascio la parola adesso per presentare brevemente il corso e anche il profilo del nostro ospite. Vi ricordo una cosa importante, il professor Giorgio Cella ha pubblicato di recente proprio un libro sulla crisi ucraina, Storia e geopolitica della crisi ucraina dalla Rus di Kiev ad oggi, edito da Carocci. Il libro è disponibile alla libreria all'arco, se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistarlo, la libreria all'arco che per i nostri soci tra l'altro prevede una scontistica al momento dell'acquisto. Ho detto tutto, passo la parola a Mirko Carattieri e vi ringrazio e buon ascolto. Grazie Susi, buonasera a tutti, benvenuti e benvenute in questa bella sede. È un piacere rivedersi in presenza, anche se con le mascherine. Siete tanti, quindi come dicevano qui nelle prime file, serve un po' di ordine. Qui siamo abituati a farlo con gli studenti, quindi anche voi dovete adeguarvi allo standard. Siete in tanti, non facciamo confusione, se no rimbomba e non si sente nulla. Allora, negli ultimi anni abbiamo cercato di approfondire la storia dell'Europa nel lungo periodo. Per quest'anno abbiamo deciso di allargare lo sguardo, o meglio di spostare la focale dello sguardo, guardando alla storia europea, in particolare del Novecento, da Est. Ovviamente lo abbiamo fatto con riferimento all'attualità o comunque alle vicende correnti che ci pongono direttamente all'attenzione questo scenario, ma lo abbiamo fatto anche nella convinzione che sia ormai necessario superare alcuni pregiudiziali, alcuni punti di vista stereotipati che si sono un po' incancreniti nella nostra visione occidentalista. Oggi abbiamo deciso di cominciare il corso con un incontro sull'Ucraina, un po' appunto per confrontarci anche con le tematiche dell'attualità stretta, ma anche perché il corso, e come sentirete oggi la lezione di Giorgio Cella, ma ancora di più il suo libro che vi consiglio assolutamente di acquistare, di leggere, perché non è solo una storia dello spazio ucraino, ma è proprio un approccio molto interessante di carattere multidisciplinare a quella storia nel lungo periodo. E devo dire che mi fa anche particolarmente piacere che qualcuno che lavora nel contesto delle scienze politiche abbia un approccio storico così profondo, perché non è sempre così. Ecco, l'obiettivo nostro è proprio quello di dare un po' di profondità storica a delle questioni di stretta attualità, confrontandoci con una realtà poco conosciuta in Italia e sulla quale invece c'è tanto da sapere. L'altra cosa che voglio dire prima di introdurre Giorgio è che tutti i relatori di questo corso, a parte l'amica Antonella Salomoni, sono più giovani di me. Quindi anche questo è, secondo me, un punto importante. Cioè, abbiamo chiamato dei giovani ricercatori molto bravi, molti dei quali lavorano in Italia e all'estero, e credo che sia questo un valore aggiunto per voi, che ascolterete e in generale per la nostra città, che ha l'occasione di ospitarli. Il professor Cella insegna all'Università Cattolica di Milano, è uno studioso, appunto, delle relazioni internazionali, in particolare nell'ambito post-sovietico, oltre che appunto della zona europea, si è occupato molto del Caucaso e dell'Asia centrale. Vi ripeto, questo libro è assolutamente da leggere e da regalare se qualcuno è interessato a quello che sta succedendo in Ucraina e non si accontenta, diciamo così, del chiacchiericcio televisivo. E quindi non gli rubo ulteriormente tempo. Oggi ci occuperemo, appunto, come avete visto dal titolo, dell'Ucraina nel Novecento, ma vedrete che per capire bisogna, insomma, risalire anche alle radici precedenti. Grazie a tutti di essere qui e buona lezione. Eccoci qui, allora, grazie a tutti, innanzitutto, per essere qui così numerosi. Grazie a Mirko per l'introduzione. A sto punto devo chiederti subito quanti anni hai, però. Perché adesso ho sto dubbio esistenziale. Non ho 48. Ecco, allora se sono ben indietro ancora, il calcolo era giusto. Allora, ecco, silenzio anche se possibile. Prima è stato richiesto dalle prime file che è arrivato il professore, adesso quindi non potete più chiacchierare. Allora, sull'Ucraina quante cose da dire? Incominciamo, ecco, innanzitutto col dire che la lezione di oggi è sì sul Novecento, però dovrò fare assolutamente delle premesse che retrodatano di un bel po'. Il Novecento, per farvi capire che cosa è successo nel Novecento. Altrimenti, senza una struttura, diciamo, storica, questa crisi semplicemente non si capisce, non si comprende. Per quello che, diciamo, il libro è un po' unico, quantomeno nel panorama italiano, ma anche in quello internazionale, perché di testi che vanno, come questo, da Erodoto o dal Medioevo, ad oggi sono 4-5. Sono ovviamente, tra l'altro, tra le fonti che ho utilizzato per il libro. E per questo che vi dico questa premessa. Allora, innanzitutto due cose tecniche. Ucrai. Che cosa significa Ucraina dal punto di vista etimologico? Significa sui confini, pensate in lingua slava, Ocrai, sui confini. E questa etimologia tradisce la sua cifra geopolitica, la sua essenza geopolitica. Geopolitica, tra l'altro, termine abusatissimo, di cui vorrei dare e fare chiarezza, perché ormai si usa geopolitico anche con non so cosa. Sono andato al supermercato geopolitico, ho fatto il viaggio geopolitico. Allora, facciamo chiarezza. Geopolitica, in termini seri, si intende il legame che esiste tra variabili umane, quindi politiche, quindi come noi che abbiamo tutti un termine, e le costanti geografiche che, salvo catacrismi, rimangono quelle nei secoli. Quindi geopolitica è questo. Quindi quando parlate di geopolitica, ricordatevi sempre che deve esserci un legame geografico. Parliamo di due stati, devono essere quantomeno della stessa area, altrimenti, l'altro giorno, perché ve lo dico, perché l'altro giorno ho sentito, senza fare nomi, ovviamente, qualcuno che parlava di influenza geopolitica della federazione russa in Venezuela. Allora, voglio dire, io non vedo nessun link geografico tra la Russia e il Venezuela, no? Che io sappia, la geografia un po' la conosco. Quindi quello, semmai, è politica internazionale, che sono due cose ben diverse. Poi, altri concetti ancillari alla geopolitica, se non anche più importanti, fondamentali, sono la politica estera di uno Stato, che forma l'insieme della politica internazionale. La politica internazionale è per l'appunto data dalla sommatoria, dalle divergenze e convergenze delle varie politiche estere, e poi c'è la proiezione politico-militare di uno Stato, ok? Quindi questi sono, diciamo, gli strumenti fondamentali della politica internazionale a cui si connette la geopolitica. Allora, un'altra premessa fondamentale. Perché questo libro ha avuto così successo? Ovviamente è uscito per congiuntura astrale in un momento importante, in un momento fortunato, tra l'altro tre mesi prima dello scopio del conflitto. Sicuramente non si tratta di un instant book, come poi ne sono usciti vari, come è logico e legittimo, ci mancherebbe, come sempre. E' la mia tesi di dottorato, ok? E' la mia tesi di dottorato che io cominciai al di sopra di ogni sospetto nel 2014. Anzi, in realtà, sul finire del 2013. Perché, come poi, chi ha letto il libro, chi avrà voglia, modo di leggerlo, vedrà che io mi trovavo in Ucraina e non a Lviv o a Odessa, ma proprio a Kiev quando scoppiò il tutto. Quello che poi è stato soprannominato Euromaidan. Vi ricordate, no? Che poi qualche giornalista nostrano ha chiamato, per ragioni a me ancora ignote, Piazza Maidan. Senza manco andare a vedere che cosa volesse dire Maidan, che significa piazza. Quindi la rivoluzione di piazza a piazza, no? Vabbè, insomma, robe nostre. Parentesi chiusa. Quindi, diciamo che anche dal punto di vista del fato, mi trovavo in Ucraina e ho visto proprio l'esplosione delle prime micce di questo conflitto che oggi ci sta portando quasi, adesso non voglio farvi andare via terrorizzati, ma voglio farvi anche, darvi anche poi qualche pillola di ottimismo possibile, ci ha portati, dicevo, sull'orlo di un conflitto quasi continentale e con ombre nucleari. Ricordiamo, tra l'altro, in questo le parole di uno dei più saggi analisti di politica internazionale che coincidentalmente è anche un pontefice, cioè Papa Francesco. Innanzitutto ha detto che questa rientra tra quello che avevi vista che lui vede come una guerra come una guerra mondiale a pezzi e tra l'altro recentemente ha anche detto abbastanza giustamente facendo una constatazione dei fatti che è una guerra che ha trasceso ormai la dimensione regionale russo-ucraina. Questa è una guerra di blocchi evidentemente, poi se ci sarà tempo riusciamo anche a parlare della strettissima attualità prima o poi Mirko, se ho capito bene, di lasciare anche una mezz'ora finale al Q&A ma insomma la domanda del pubblico ecco, traducendolo in italiano. Allora, cosa stavo dicendo? Un po' nel destino questa questione di scrivere questo libro. già nel 2013 e 2014 io in teoria all'inizio volevo stavo dicendo prima Mirko fare una tesi di dottorato sul Caucaso del nord e sulla Cecenia quello che feci semplicemente fu di traslare tutto l'impianto metodologico e sapienziale che avevo sul Caucaso e dirigerlo verso l'Ucraina perché mi sembrava che di lì a poco sarebbe diventato avrebbe potuto diventare divenire un punto focale delle relazioni internazionali e così è stato già al tempo vi ricordo nel 2014 fu la più grande crisi di politica internazionale del XXI secolo senza dubbio adesso dal 24 febbraio è entrato in un livello ancora più pericoloso più grave e più coinvolgente del sistema internazionale Tucur ma già al tempo era una crisi a tutti gli effetti globale allora facciamo ancora una premessa di cui ho anticipato all'inizio perché questa crisi è una crisi e riprendo qui il titolo non casuale geopolitica e storica allora vi faccio un esempio molto molto semplice la guerra il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iraq tutti e due o uno l'altro è un conflitto che ha sicuramente delle radici geopolitiche perché c'era la questione del Kuwait vicino all'Iraq c'era la questione dei kurdi le violazioni dei diritti umani eccetera ma di storico per farvi capire non è che ci fosse molto che relazioni bilaterali vantano Stati Uniti e Iraq nella storia la culla della civiltà mesopotamica con una nazione relativamente giovane no? 300 anni qui invece in questa crisi tutto è storia io stesso durante la redazione della tesi durante le ricerche mi sono impressionato spesso nel vedere delle ciclicità storiche incredibili incredibilmente attuali poi vi farò vari esempi ma veramente è un continuo di corsi e ricorsi storici analogie non solo di storia in sé ma anche di politica estere chi leggerà il libro ad esempio vedrà la ciclicità e le analogie della io le ho chiamate persistenze geopolitiche o persistenze di politica estera della Germania ad esempio la Germania fin dai tempi dell'ordine teutonico medievale che era la prima faccia il primo volto della proiezione di potenza politica religiosa al tempo economica tedesca teutonica si spingevano ad est cioè andavano a confluire a spingere questa pulsione verso est e poi sappiamo negli anni nei secoli come questo questo è ritornato con la prima guerra mondiale con gli imperi centrali l'impero strungarico quello di Guglielmo I l'impero Guglielmino e poi ancora il terzo Reich e il Lebensraum dov'è che era orientato il Lebensraum cioè la ricerca di uno spazio vitale a nord a sud a ovest no ad est quindi vedete ad esempio non solo riproduzioni di analogie storiche ma anche di politiche estere molto chiare che hanno sempre finito con l'impattare su queste lande di marca su queste terre storicamente addirittura etimologicamente di confine ricordo Ocrai sui confini in lingua slava e sempre sulla questione storica e questa qui non è una fissazione di Giorgio Cella ma basta sentire anche i discorsi del presidente Vladimir Putin allora Putin nell'estate scorsa prima dell'invasione evidentemente ha scritto un articolo dal titolo sull'unità storica di russi e ucraini in cui qui ve lo devo dire ovviamente un po' tutto in grande sintesi perché no è condensato in 350 pagine tutta questa cosa e io vi devo parlare un po' di più del novecento anche se è importante come ho detto che vi parli anche di cose precedenti al secolo breve Putin in questo articolo ha spiegato ha tirato fuori ormai Putin si alterna ci vuole rubare il lavoro fa pure lo storico cioè non fa più solo il presidente statista ma fa anche lo storico l'analista di geopolitica allora in questo articolo lui che cosa è andato a tirare fuori la questione della russ di Kiev che vedete campeggia nel sottotitolo del testo dalla russ di Kiev a oggi che cos'era questa russ di Kiev posso chiedere innanzitutto se qualcuno sa già che cosa fosse la russ di Kiev così anticipiamo un po' il dibattito non siamo a lezione gli esami gli appelli d'esame sono finiti quindi non cazzerò nessuno ma solo per sapere qualcuno ha sentito russ di Kiev no benissimo allora faccio bene vedi a fareste premesse ecco la riprova allora Putin parlò di questa russ di Kiev che cos'era era la culla storica etnica linguistica degli slavi orientali lui la mette giù ovviamente dalla prospettiva russa dicendo che facendo figurare come la russ di Kiev fosse la prima Russia non è così a detta della stragrande maggioranza della storiografia no e anch'io penso seriamente che era una culla di slavi orientali cosa implica al fatto che fossero slavi orientali che vi erano pure gli slavi occidentali che sono quelli che stanno in Polonia cecoslovacchia slovacchia eccetera slovenia e gli slavi mediterranei o balcanici cioè croati serbi e compagnia macedoni eccetera allora questa russ di Kiev è fatto importantissimo perché da lì poi e qui non mi posso dilungare perché ripeto siamo nel novecento emergono quelli che saranno i futuri stati di Russia Bielorussia e Ucraina con una grande differenza detto in sinossi totale che l'impero russo nasce si forma nei secoli subito dopo la distruzione della Rus di Kiev per mano dei mongoli nel 1240 distruzione assedio di Kiev finisce poi vabbè storicamente finisce quasi cinquant'anni dopo ma diciamo che il colpo finale a questo regno medievale fu dato dai mongoli lordadoro di Gengis Khan nel 1240 da qui in poi punto fondamentale segnatevelo dal punto di vista mentale quanto meno come tappa fondamentale perché pensate che la storiografia separa la storia della Russia dal pre 1240 al dopo 1240 cambia tutto quello che volevo dirvi tra l'altro è finita la Rus di Kiev inizia quella che c'è un capitolo che si chiama l'etnogenesi degli stati degli slavi orientali in cui cominciano pian piano in un iter molto intricato intricatissimo sia per i russi che per gli altri per le altre due nazioni quel cammino che li porterà a divenire stato breve differenza Ucraina e Bielorussia diventano stato con movimenti nazionali che partono nel 1800 e poi si concretizzano nel XX secolo la Russia diventa impero quindi è chiaro che tra i tre l'impero russo è la forma l'essenza statuale l'entità statuale che ha avuto l'impatto maggiore sul corso della storia adesso qui voglio dire no questo è un dato è un dato di fatto e quindi vi stavo dicendo tutte queste considerazioni storiche non sono esattamente mie ma sono espresse manifeste molto spesso nei nei discorsi dei leader di quest'area e non solo di Putin voi dovete capire anche la questione vedete sempre interna alla Russia di Kiev della religione altro punto fondamentale e qui veniamo al primo raccordo proprio diciamo quasi a livello anche nominale palese tra antichità e geopolitica odierna nel 1980 1988 ci fu il primo di questi re monarchi di questa Rus di Kiev noto col nome di Vladimiro primo il santo quindi pensate oggi ci sono i due belligeranti che si chiamano tutti come Vladimir Vladimir Putin e l'altro Volodymyr nella declinazione ucrainofona però ecco vedete anche qui i due rei monarchi al tempo Vladimir primo e Volodymyr e Vladimir Putin che cosa fece questo Vladimir primo che io definisco un santo un po' strano perché per tutta la vita è stato pagano e ha compiuto anche dei sacrifici umani tra l'altro e aveva uno stuolo di concubine che lo seguivano a tutte le parti quindi diciamo non era proprio sto santo però dopo nel 988 si si converte al cristianesimo tra l'altro con una scelta che io ho sviscerato nel libro e vi invito a considerarla perché è di un'importanza totale per capire gli sviluppi qui davvero geopolitici geoculturali e georeligiosi dell'Europa to cure non solo della Russia o dell'Europa centro orientale perché Vladimir primo scelse coscientemente lui di inserire la Rus di Kiev al tempo che non era Russia non era Ucraina non era Bielorussia all'interno del mondo euro cristiano ecco quindi considerazioni davvero importantissime stavo dicendo tra l'altro faccio una piccola breve raccordo ancora sapete dove si è convertito personalmente Vladimir primo santo in una città che adesso conoscete tutti e che sei mesi fa non conosceva nessuno a Kherson quindi capite anche lì come nella mente diversa di questi leader e anche di questi popoli perché vabbè noi ormai siamo un po' al degrado voglio dire non per varie ragioni non teniamo neanche conto della nostra grandissima storia saremmo i primi che dovremmo no senza esaltare il passato ma quantomeno conoscerlo oggi se andiamo in giro e chiediamo dove sta il papa magari ti dicono che non so è a Torino o non sanno il nome del presidente della repubblica ecco nei paesi dell'est è un po' diverso c'è una grande coscienza storica mnemonica del passato e questo si evince anche dei discorsi dei nostri leader protagonisti del nostro racconto allora adesso ritorno un po' diciamo a bomba come si dice sul programma e mi avvicino pian piano per tappe ovviamente sintetiche io starei qui a farle articolatamente se fosse per me vi terrei qui ore a farvi tutto pian piano però devo insomma un po' devono leggere il libro appunto devono anche leggere il libro quindi non esatto allora veniamo andiamo a un po' più in là del medioevo arriviamo al diciassettesimo secolo poi adesso arriviamo al novecento e non vi preoccupate che ci arriviamo nel diciassettesimo secolo c'è un una tappa un evento fondamentale che io quando lessi quando mi documentai è emersi subito nella mia mente che come questo fosse davvero un punto fondamentale per poi ritrovarlo ancora in un evento del 1900 a cui ci ricollegherà esso stesso allora siamo nel 1654 si siglano gli accordi cosiddetti di Pereyeslav nome un po' difficile slavo ma niente di che ci sono degli accordi nel 1654 tra chi sono fatti questi accordi sono fatti tra il capo dell'etmanato qui entriamo in cose un po' più tecniche ma niente paura l'etmanato era una sorta di protostato ucraino ok voi se andate a Kiev oggi nella grande piazza davanti alle due grandi basiliche trovate la statua dell'etmano del capo di questo stato protostato ucraino dei cosacchi li avete sentiti i cosacchi questi si tutti ecco i cosacchi avevano questo stato che era l'etmanato da Ataman no nome di origine germane vuol dire capo va bene il capo di questi cosacchi noto che si chiamava Bohdan Kmelnitsky la statua è dedicata a lui nel centro di Kiev pensate ancora con la mazza regale no e tutto decise di levare l'Ucraina dal gioco secolare dell'altro stato stato impero importantissimo e meno ancora conosciuto di tutti gli altri di cui vi ho parlato sinora ossia della Polonia al tempo noto come Commonwealth o diciamo confederazione polacco-lituana erano tutte realtà uscite dal disgregamento o disgregazione di quella russa di Kiev di cui vi ho parlato prima quindi vedete sono tutti i vasi comunicanti comunque questo lo vedrete meglio nel libro dicevo Bohdan Kmelnitsky capo del protostato ucraino dei cosacchi nel 1654 decide di togliersi di torno il potere polacco il gioco polacco erano cattolici gli etmani i cosacchi erano tutti ortodossi avevano come regola principale per entrare nel cosacato era quello di essere cristiani ortodossi che cosa fa questo etmano decide di allearsi di chiedere l'alleanza di entrare sotto l'ombrello politico militare dello czar del tempo Alessio I quindi furono gli ucraini nel 1654 che per un contesto nessuna colpa ma questa è la storia un contesto geopolitico di potere di equilibrio di potere decisero di affiliarsi loro ai russi ai russi del tempo che era lo zarato di Moscovia ok non era ancora proprio impero totale cioè sì era già impero ma insomma in una fase ancora espansiva 1654 tra l'altro ecco qui c'è l'istituzionalizzazione dei rapporti prima volta prima volta istituzionalizzazione e formalizzazione dei rapporti tra ucraini proto-ucraini ok ma già era in in voga il termine ucraini e russi tra l'altro vi consiglio spassionatamente di andarvi a leggere poi ci furono dei secondi accordi pochi anni dopo che furono chiamati accordi di Pereyoslav II vi invito a andare a leggerli perché sono le stesse richieste che Vladimir Putin ha fatto all'Ucraina nei confronti della Nato della sua politica estera delle truppe eccetera degli armati uguali identici ovviamente mutatis mutandis no? ecco quindi dopo questo punto 1654 andiamo al novecento e perché non facciamo un salto un po' ovviamente nei secoli ma c'è un collegamento netto e indubitabile tra il 1654 e il novecento pensate poi questo lo riprendiamo però più tardi perché dobbiamo fare un passo indietro nel 1954 vi ricordate che cosa occorse un grande evento Khrushchev morto Stalin destalinizzazione decide di dare motu proprio la Crimea alla sovranità della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina perché fa questa cosa Khrushchev e dopo è solo una parentesi questa ritorno al novecento perché commette questo che agli occhi di Putin fu stigmatizzato come una sorta di crimine no? Putin li ha sgridati tutti i leader sovietici non ne ha salvato uno tra l'altro inquietante il fatto che l'unico che abbia un po' salvato e graziato è Stalin questo insomma vi fa ragionare un attimo sulle unità di misura di Putin e la storia allora Khrushchev guardate e poi ragionerete voi se è una fissazione mia o è realtà storica io ho messo nel libro ho riportato non tutti ma parte dei trattati con cui il governo comunista moscovita aveva formalizzato questa cessione di sovranità della Crimea all'Ucraina e di cosa parla dei trattati degli accordi di Pereslav del 1654 e Khrushchev ne parla dice in onore in memoria degli accordi stipulati dallo Zare e dall'Etmano nel 1654 noi in segno di fratellanza no? le nazioni sorelle dell'Ucraina e della Russia entrambe slave ortodosse emerse dalla Rus di Kiev noi vogliamo fare questo grande gesto che al tempo era come una regalia imperiale tra l'altro io l'ho definita così nel libro tra l'altro in un contesto diciamo di equilibri di potere all'interno del Mar Nero completamente diversi da oggi cioè non c'era nessuna nessun nessuno scontro il Mar Nero era un lago sovietico totalmente tranquillo e nella sovranità massima dell'Urs e Khrushchev non si sarebbe mai atteso che quella regalia imperiale divenisse uno degli elementi che ha fatto scaturire la più grande crisi del ventunesimo secolo non lo poteva capire al tempo infatti io sono andato alle fonti del nostro diritto latino tentando di tentando dando la mia ermeneutica su questo punto perché la storiografia ci ha ragionato assai tentando di interpretare questa scelta di Khrushchev io sono andato alle fonti del diritto latino e nel titolo del capitolo c'è già la spiegazione Rex in regno suo est imperator che cosa significa che il monarca all'interno del suo spazio geopolitico è totalmente sovrano quindi decide di fare quello che vuole perché al tempo non c'erano competitor regionali il suo potere era absoluto come il basileus no? per rimanere in ambito per rimanere in ambito bizantino orientale europeo allora veniamo un attimo torniamo facciamo un passo indietro per venire ad alcune date alcuni eventi che si possono estrinsecare dal secolo breve cosiddetto ma secolo complessissimo ovviamente ecco se vi ho consigliato tutte le altre parti del libro le parti sulla prima guerra mondiale non so se consigliarvele o no dell'Ucraina perché sono davvero di una complessità di un intricato incredibile comunque veniamo per l'appunto un attimo al 1917 no? dato che parliamo di novecento allora 1917 innanzitutto come sapete è l'anno del crollo dell'impero soviet dell'impero zarista tra l'altro insomma io non credo che adesso siamo prossimi a un crollo dell'impero russo però no mi diceva prima che signora Davoli che avrete qui l'imes a breve no? l'imes ha fatto già un numero su un futuro senza la Russia cioè con un crollo dell'impero e può essere che diciamo possono esserci degli elementi che già oggi fanno pensare a un futuro crollo della struttura imperiale russa perché è caduta tra l'altro quella zarista è caduta quella sovietica in 89 se uno guarda i detti popolari non c'è due senza tre forse no ci piglia però al di là di questo oggi siamo in una situazione che ha un po' di analogie perché l'impero russo è da sempre crollato in seguito a grandi sconfitte militari attenzione 1904 guerra russo giapponese 1980 89 guerra in afghanistan quindi vedremo come come va il conflitto tornando al nostro 1917 c'è la grande rivoluzione bolshevica ci sono delle situazioni di altissima complessità che coinvolgono l'ucraina c'è la guerra c'è l'yenin che arriva al potere e c'è la guerra civile tra bolshevichi e armate bianche di denikin cioè quella fazione russa che non voleva accedere al bolshevismo al comunismo ma voleva invece ripristinare un impero molto simile tra l'altro nella concezione di putin voleva ripristinare un impero basato sulle vecchie tradizioni sull'ortodossia per l'appunto sul trono e la croce no? sull'impero e in questo l'ucraina fu ampiamente ampiamente coinvolta c'è tutta la questione poi dell'entrata nel conflitto della Polonia ci furono nel 1917 tra l'altro ricordiamolo scusate tra le varie cose nel 1918 c'è la prima dichiarazione di indipendenza dell'ucraina l'ucraina per la prima volta nel 1918 si dichiara un po' diciamo in maniera velleitaria dichiara la sua indipendenza poi sappiamo che pochi anni dopo questa fragile indipendenza fu spazzata via perché entrò a far parte del dell'URSS no? dal 22 in poi però interessante questo primo tentativo di stabilire uno stato ucraino prima volta nella storia quindi sicuramente degno di nota però la problematica qual era? era lo scarsissimo controllo del territorio cioè chi eva al tempo il governo di Skoropadsky adesso non vi ammorbo con questi nomi impossibili Skoropadsky Petliura Vinnicenco lasciamo stare poi chi vorrà andarli a vedere nel libro li vedrà formarono uno stato che però non controllava molto del territorio al tempo tra l'altro interessante vedere che c'erano nove regioni formalmente dell'Ucraina attuale sotto il controllo di Kiev però ripeto a livello militare controllavano solamente Kiev ed intorni un altro dato in questo in questo frangente sicuramente importante il trattato di Riga questo trattato pace di Riga famosissimo dà un po' l'idea anche di come questa terra fu sempre un po' sfruttata anche da chi teoricamente poi la doveva difendere io ovviamente mi riferisco agli imperi centrali gli imperi centrali nella pace di Riga c'è diciamo una formale sconfitta ammessa dai sovietici che giungono al tavolo dei negoziati a Riga nel Baltico capitale della Lituania e cosa succede lì? questo trattato è anche noto come trattato del pane perché? perché voi sapete tutti che l'Ucraina qui andiamo proprio sul basico fu anche nota come il granaio d'Europa cioè come grande terra non solo diciamo di scontri tra imperi tra proiezioni militaristiche politiche geopolitiche dei vari competitors regionali e internazionali ma anche grande produttore di grano e quindi questa pace fu anche nota come trattato del pane perché pensate all'interno delle clausole di questo trattato gli imperi centrali richiesero anche derrate alimentari a frotte dall'Ucraina quindi e tra l'altro tra parentesi bisogna anche dire che con gli accordi di riga con la pace di riga l'Ucraina era praticamente fu praticamente svuotata della sua sovranità politico-militare di quel poco che rimaneva poi pochi anni dopo ripeto con con diciamo l'entrata dell'Ucraina nell'impero sovietico la sovranità fu completamente dimenticata con un lunghissimo abbraccio sovietico che durerà fino al 91 pensate adesso torniamo un attimo a Lienin però perché io ho messo nel programma che mandai a Mirko all'associazione due punti importanti allora il passaggio di mentalità per quanto concerne l'Ucraina da Lienin a Stalin allora lo dico in sintesi anche perché vedo che il tempo qui vola purtroppo come sempre allora Lienin aveva un concetto sull'Ucraina completamente diverso diciamo in termini semplici da quello di Stalin Lienin aveva come principio quello della cosiddetta korenisazia ok terminone ma semplicemente prende spunto dalla parola etimologicamente koren che vuol dire radice cioè quindi che cosa voleva fare Lienin dare avere una certa sensibilità verso le tantissime minoranze verso le centine cento etnie che componevano l'impero russo sovietico perché è perché memore del fatto che l'impero zarista era crollato ho detto prima per le sconfitte militari che è il primo elemento ma ce n'è un altro sempre che si accompagna che è l'agitazione la tensione intraetnica quando le varie etnie incominciano a essere allergiche al potere centrale moscovita lì si va verso un destino chiaro allora Lenin memore di questa cosa attento ai processi storici aveva per l'appunto ideato una sorta di dottrina che voleva che voleva armonizzare un controllo verticale del potere moscovita su tutta l'ecumene sovietica ma allo stesso tempo trattare bene diciamo così le varie etnie le varie minoranze etniche dell'impero e questo è un qualcosa che insieme alla riforma agraria ebbe sicuramente successo per Lenin muore Lenin subentra Stalin tra l'altro qui ci sarebbe anche da considerare il fatto di una cioè la volontà di Stalin proprio di creare il nuovo uomo sovietico che sostituisse quella armonizzazione voluta ricercata e anche effettuata da Stalin poi vi ricordo a tutti io sono stato in Georgia voi sapete che Stalin era georgiano no? Anche pensare a uno che è georgiano e vuole far diventare tutti i russi cioè voglio dire penso oggi dice no un po' strana no? C'è il premier austriaco che vuole far diventare italiani tutti gli austriaci dicono pigliano per matto vabbè al tempo comunque c'era un contesto ovviamente io qui un po' ironizzo ma si era pensato perché perché Stalin si era totalmente immedesimato in uno zar russo questo è il fatto cioè questo è importante da capire l'impero russo sovietico era un impero che aveva questo corollario ideologico marxista bolshevico comunista socialista ma le linee d'azione e le traiettorie qui di politica estera di proiezione strategica militare politica economica erano identiche a quelle dell'impero degli zar ecco questo sia ben chiaro perché altrimenti non si capisce nulla il corollario era marxista comunista tutto quello che volete ma le linee politiche erano le stesse di Pietro Primo fondatore e plasmatore della politica estera russa trovate tutto questo nel capitolo che parla di Pietro Primo e tra l'altro lì leggerete ancora delle cose che vi sembreranno gli scontri di oggi Pietro Primo che conquista e toglie al tempo ai turchi la base la base di Azov sul mare di Azov e oggi abbiamo il battaglione di Azov abbiamo gli scontri sul mare di Azov per il controllo del mare di Azov abbiamo Pietro Primo che per primo cerca quello che poi diventerà un tratto classicissimo della politica estera russa l'accesso ai mari caldi rimasto fino a Putin perché è andato in Siria Putin per riprendere il pieno controllo della base di Tartus e quindi rimettere un piedino politico militare non geopolitico in Siria in Medio Oriente vedete quanti vasi comunicanti che vi sto dando quanti raccordi trapassato e presente in questa storia che veramente ha tutto di geopolitico e tutto di storico veniamo a Stalin riprendo il discorso senza perdermi ho il vizio di aprire tante parentesi però finora le ho chiuse tutte mi pare giusto ecco se non dovessi chiuderne ditemelo state la mano allora veniamo a Stalin Stalin ribalta tutto quello che formulò Lenin tutto perché incominciano una stato crea uno stato totalmente ditatoriale ancora molto più di prima e la coreanizzazia va a farsi benedire e questo basta rintracciarlo nel caso ucraino potremmo vederlo nel caso dei tatari eppure lì quanta roba ci sarebbe da dire sui tatari crimeani potremmo dirlo sui ceceni su tutte le popolazioni del caucaso che furono deportate in Asia Centrale o in Siberia ma rimaniamo nel nostro caso ucraino e chi ha sentito parlare devo fare questa altra domanda di Holodomor sì ah benissimo ecco la vuole spiegare lei o vado avanti io no chiedo no ok sì va bene allora Holodomor è una questione su cui c'è veramente poco da ridere tra l'altro una sorta di eccidio non so come chiamarlo le stime parlano di milioni di morti dai due ai tre ai quattro sicuramente dai due e tre credo ma poi insomma no la storiografia poi fa le sue stime di morti per fame Holodomor in ucraino morti per fame perché in due parole perché qui dobbiamo andare avanti col programma del novecento Stalin sequestrò il grano nel processo di deculachizzazione ok quindi anche qui la riforma agraria di Lenin fu completamente ribaltata cioè ha ribaltato non solo le politiche nazionali sulle minoranze etniche ma anche la questione della riforma agraria altra cosa su Stalin e poi passo avanti per giungere stare un po' in coerente coi tempi Stalin e qui ritorno al libro secondo anche la definizione di un grande storico nostro il professore Andrea Graziosi è riuscito adesso voi direte ma che sta a dire è riuscito a compiere il sogno più radicale dei nazionalisti ucraini perché perché ve lo spiego subito allora nel 45 Stalin aveva il potere di decidere i nuovi confini dell'Ucraina perché la guerra l'aveva vinta lui no i polacchi erano in una situazione devastante no dopo il patto Molotov-Ribbentrop la spartizione quarta spartizione di Polonia come l'ho denominata nel libro e quindi cosa fece Stalin ma non per un amore cieco verso gli ucraini sia chiaro aveva fatto Lodomor un po' di anni prima più le purghe con cui sterminò l'elite del paese e mica sono degli ucraini poi lo fece pure per i polacchi Katine tantissime tantissime altre varie etnie ridisegnò i confini dell'Ucraina assemblando nel nuovo stato dell'Ucraina tutte quelle regioni in cui gli ucraini avevano avuto una presenza storica guardiamo solamente al lato ovest che è quello che Stalin che è quello che di cui Stalin si occupò di più lato occidentale parlo della Galizia e della Volinia due regioni storicamente polacche sebbene contese tra Ucraina e Pola lì ci furono quello che io ho definito azioni di ingegneria etnica in cui Stalin fece delle sorte di cambi etnici di massa allora adesso non ricordo esattamente i numeri in Volinia c'erano si passò da attorno al milione no dalle centinaia di migliaia a 7000 polacchi rimasti in Volinia in Galizia regione storica della Polonia si passò da 1.800.000 se non ricordo male ma credo proprio così a 2.300.000 polacchi e furono tutte regioni poi inserite con iniezioni di ucraini perché perché al tempo gli ucraini erano ovviamente ucraini sovietici e Stalin voleva qui ancora ritorna l'etimologia ocrai terra di confine terra sui confini Stalin voleva rendere l'Ucraina uno stato cuscinetto cosiddetto in inglese in una definizione che calza veramente bene quindi la uso non voglio offendere chi odia gli anglicismi ma qua mi tocca farlo in una buffer zone o buffer state stato cuscinetto zona cuscinetto cuscinetto di difesa contro chi di difesa contro l'occidente da dove i russi un po' per ossessione poi diventata ossessione un po' per realtà storica avevano sempre subito le maggiori invasioni e Napoleone e l'ordine teutonico e gli svedesi di Carlo XII e poi Napoleone poi Hitler eccetera eccetera quindi Stalin procede a questa ricostruzione di uno stato ucraino che combaciava con i sogni più splendidi dei nazionalisti ucraini e questo è un po' un paradosso storico attenzione però altra cosa degna di nota in questa nuova Ucraina ci mise pure il Donbass però nel Donbass non ci mise gli ucraini ci mise russi etnici con un occhio molto lungo bisogna dire a quanto vediamo oggi sempre con in mente e nel cuore le linee guida della politica estera imperiale russa pensate che beneficio ha portato oggi alle zone del Donbass con questa iniezione di russi etnici fatta per l'appunto nel 46 47 eccetera non ce n'erano così tanti di russi ce n'erano già in quelle zone ovviamente molto liquida la cosa in Ucraina tra russofoni ucrainofoni eccetera però lui ce ne mise veramente tanti in più quindi vedete a ovest quindi inserimento di ucraini a sud inserimento di russi questo ovviamente per legare all'Ucraina al centro politico di Mosca ecco questo altro punto fondamentale allora cos'altro dirvi qui un po' diciamo cinque e mezza io quanto dimmi ho ancora un po' allora cosa dire di altro allora abbiamo visto la questione sempre nella secondo nel secondo dopoguerra della Crimea di cui vi ho già parlato e io farei un accenno anche per rimanere nel periodo sovietico diciamo nella seconda fase post 45 con un accenno a Chernobyl a quello che successe no nell'86 perché tra l'altro questo ha così tanti così tanti raccordi e collegamento con quanto vediamo oggi incredibile allora pensate che al tempo oggi noi abbiamo la questione del nucleare di cui ho parlato all'inizio dal punto di vista militare e poi abbiamo pure la questione della centrale nucleare di Zaporizia tra l'altro chicca storica sapete dove era la capitale degli etmani cosacchi di cui vi ho parlato inizialmente a Zaporizia era la capitale degli etmani ucraini quindi ecco insomma anche qui pensate agli ucraini come come spiace perderla sta città no? si chiamava Zaporizia Sic per la precisione però vabbè allora in questo questo frangente non è solo un incidente nucleare è un evento corredato da dimensioni politiche di politica internazionale importantissime allora siamo in una fase no? siamo già nell'era gorbacioviana quasi no? con la perestroica e la glasnast ricostruzione e trasparenza no? riforma e trasparenza alla faccia della trasparenza Gorbaciov stesso ci ha messo giorni prima di dire che era successo un disastro allora tutto questo cosa vi voglio dire che ha creato un'ulteriore sfiducia enorme negli ucraini verso il potere moscovita centrale fu diciamo l'ultimo chiodo nella tomba di un edificio sovietico che era già faticente tra l'altro da qui si svilupparono alcuni movimenti politici come il RUC che R-U-C-H una cosa un po' più tecnica ma che incominciarono a portare delle istanze di di protesta incominciarono a creare quei movimenti di dissidenza che poi furono paradossalmente anche non promossi ma diciamo in qualche modo contemplati dall'azione di Gorbachev cioè Gorbachev era per l'appunto per le liberalizzazioni e voleva per l'appunto anche una maggiore libertà delle minoranze vedete ancora torniamo alle questioni storiche ecco questa questione dell'Ucraina quindi di Chernobyl è veramente da tenere a mente in questo senso di altro mattone che cade dall'edificio sovietico e al tempo già la centrale nucleare di Zaporizia era attiva ce ne erano quattro e quella di Chernobyl è quella che esplose ma per l'appunto ecco Zaporizia era già un'importante centrale nucleare poi che cosa dire ancora per quanto concerne diciamo ultime cose della fase post-sovietica noi abbiamo nel 91 due eventi che portano veramente al collasso definitivo dell'URSS che escono tutti dall'Ucraina dichiarazione di indipendenza 24 agosto 1991 e poi referendum del dicembre 91 che sancisce l'indipendenza ucraina allo stesso tempo sancisce la morte cerebrale definitiva dell'URSS poco dopo nel luglio 91 ci sarà anche lo scioglimento del patto di Varsavia quindi eravamo sulla soglia veramente di cambiamenti enormi io anche come consiglio infine vi dico due eventi su cui secondo me c'è da prestare grande attenzione nella nella storia nello sviluppo diacronico dell'era e del mondo post sovietico allora il primo è tutta la questione della Crimea perché la Crimea non è che come problema salta fuori nel 2014 Crimea ha avuto tutta praticamente tutta voi sapete che nel 1992 c'è stata la dichiarazione di indipendenza della Crimea chi è che lo sa questo già sotto presidente Kravchuk che seppe con grande saggezza politica fargli entrare una possibile crisi cecena in Crimea vogliamo dirlo così per farci capire ecco e poi quanti altri accordi ci furono tra russi e ucraini per la proprietà della Crimea e soprattutto della base navale di Sebastopoli tra l'altro vi invito a guardare gli accordi fatti addirittura da Kravchuk e Yeltsin poi ancora da Kuchma e Yeltsin poi ancora tra Medvedev e Yanukovic tutti accordi che riguardavano l'affitto della base di Sebastopoli il numero di militari che i russi potevano mantenere gli anni in cui i russi potevano rimanere nella base l'ultimo contratto sarebbe scaduto a livello di contratto nel 2042 ma poi sappiamo ovviamente l'annessione armata della Crimea da parte di Putin nel 2014 ha fatto carta straccia di tutti questi negoziati volevo solo dire che in tutti questi accordi era palesemente manifestata la reciproca reciproco rispetto della sovranità e del rispetto dei confini dell'Ucraina internazionalmente riconosciuti ciao ciao core voglio dire tutti accordi che sono stati completamente disattesi secondo evento che vi invito a guardare soprattutto a approfondire a studiare soprattutto per le per gli sviluppi incredibili che ha avuto su cui ho scritto ritornando a l'IMES sono collaboratore un articolo proprio sugli sviluppi che questo evento ha avuto qual è questo evento memorandum di Budapest del 1994 allora voi dovete sapere che fino al 94 l'Ucraina e Kazakistan e Bielorussia ma in particolare l'Ucraina era la terza potenza nucleare al mondo cosa è successo nel 94 in questo memorandum di Budapest bisogna considerare lo zeitgeist del tempo cioè l'atmosfera la filosofia del tempo la filosofia del tempo in ambito di politica internazionale qual era? era quella del disarmo nucleare era quella della non proliferazione delle armi di distruzione di massa allora gli ucraini al tempo finirono ai loro in questo così questa tendenza strategico culturale del tempo e furono spinti a donare tutto il loro arsenale in questo caso strategico perché avevano anche tutto un arsenale tattico oggi si parla molto di armi tattiche anche al bar tu entri senti che parlano di armi atomiche tattiche strategiche come se fosse così una roba di caramelle di gusti diversi gli ucraini nel 94 furono spinti poi da chi dall'amministrazione americana da Clinton dall'amministrazione Clinton a dare tutto il loro rimanente arsenale nucleare strategico a chi all'erede unica dell'URSS federazione russa in quello stesso evento e di questo parlo in una nuova interpretazione nell'ultimo scritto per l'IMES si è creata allo stesso punto l'inizio cioè l'Occidente ha fatto sì che in questo modo ha tolto la potenzialità strategica di deterrenza all'Ucraina e ad un tempo ha dato alla Russia gli elementi per ridivenire potenza perché se tu nell'area divieni unica potenza atomica è quello che oggi è quello a cui oggi si sta aggrappando Putin la minaccia dell'uso nucleare e arriva da Budapest arriva dal 94 quando la comunità internazionale spinse gli ucraini kazakhi e bielorussi a dare tutte le armi a Mosca e quindi ragionate vi invito a ragionare sulle considerazioni sugli sviluppi tra l'altro al tempo ci fu un politologo Mirsheimer americano che fece quasi una premonizione io l'ho chiamata così premonizione di Mirsheimer in cui lui era contrario contro tutta la vulgata a dare a far sì che l'Ucraina si spogliasse delle armi strategiche nucleari però era una voce sola contro il volere del tempo e le cose per gli ucraini sono andate così infatti gli ucraini già al tempo non avevano avevano già fiutato che c'era qualcosa però insomma dovevano anche aderire alla alle volontà più alte dell'Occidente grazie per ora io ringrazio molto professor Cella perché al di là di parlarci del contesto nel corso del novecento ci ha fatto intuire quali sono vi prego di mantenere il silenzio almeno finché non concludiamo quindi se qualcuno se ne deve andare lo fa silenziosamente se è possibile dicevo ci ha fatto capire quali sono gli intrecci e i rimandi di lungo lunghissimo periodo che toccano questa storia vi ripeto se leggerete il libro ne troverete molti altri troverete approfondite le cose che abbiamo detto oggi se ci sono domande su tutto quello che abbiamo sentito o anche su altro abbiamo il tempo per rispondervi non so se c'è un microfono ma se non c'è e allora o venite qui o vi alzate o vi alzate ma venite qui perché se stanno registrando è meglio venire qui se qualcuno ha qualche domanda mi raccomando facciamo domande e non contro relazioni allora due domande molto brevi uno perché gli accordi di Budapest cioè da parte dell'occidente cioè perché è stato denuclearizzato il territorio ucraino dando tutto nelle mani della federazione russa praticamente della Russia questo non l'ho capito e l'altra questione quella breve periodo della cosiddetta confederazione degli stati indipendenti no? cioè cosa ha significato cosa è stato una specie di patteggiamento momentaneo che sapevano già che sarebbe durato poco o voleva essere qualcos'altro grazie grazie allora sì forse sono stato un po' troppo filosofico sulla spiegazione degli accordi di Budapest sarò più terra a terra lo spirito del tempo lo spirito del tempo cioè la vulgata ideologica del tempo puntava alla non proliferazione degli armamenti nucleari quindi puntava alla riduzione degli armamenti atomici delle armi chimiche batteriologiche eccetera dato che la comunità internazionale aveva un po' il timore che queste armi finissero magari a bande terroristiche a gruppi sovversivi nello sterminato mondo post-sovietico e teniamo bene in mente quello cioè non è che era la Svizzera no allora al tempo si creò quest'idea che alla fine Mosca erede unica dell'Urs fosse in qualche modo più responsabile come guardiano di questa potenza nucleare anche perché va detto storicamente queste armi nucleari le avevano prodotte i sovietici cioè le chiavi anche per farle funzionare i tecnici ce le avevano i sovietici poi infatti non si sa neanche se questi dati poi erano in grado di usarle queste armi nucleari ecco le ho risposto sì bene allora per quanto concerne invece l'unione degli stati sovrani vabbè cosa dire quella è l'ultimo è aggrapparsi sui vetri quando si sta per precipitare no è un tentativo ultimo per tentare di tenere insieme i cocci e quindi se ne viene fuori con una versione più soft dell'URSS che tra l'altro non era neanche molto più soft infatti non ci cascò nessuno men che meno gli ucraini che tra l'altro qui Kravchuk fu veramente abile come negoziatore perché fece sempre credere a Gorbachev e poi pure a Yeltsin che l'Ucraina non si sarebbe staccata dall'orbita russa anche nel post sovieti quindi diciamo un po' abbindolò se vogliamo così dire un po' intortò fece un po' su Gorbachev al tempo facendogli credere che l'Ucraina sarebbe stata più o meno sempre al fianco della della Russia anche in un ignoto post soviet in un'era post soviet ripeto non era poi così soft perché in questa unione ipotetica Mosca avrebbe avuto sotto il suo controllo i ministeri chiave di tutti questi stati che avrebbero ipoteticamente aderito ministero degli esteri finanze e interni quindi non era questa questa soluzione così diciamo viabile e rivoluzionaria in un ipotetico post urs ecco il prossimo prego dovete venire qui perché se no non sente nessuno dovete usare il microfono ecco complimenti per il suo intervento due osservazioni premetto che è stato tutto un intruglio un intreccio un minestrone che io del passato non avevo minimamente in mente qualche rara nozione scolastica una metterò due paia d'occhiali uno sopra l'altro perché è un intruglio va bene invece le osservazioni sono odierne allora la prima secondo il suo punto di vista e gli studi finirà questa guerra e se finirà se dovesse mai finire come finirà in che modo finirà chiedo scusa e se finirà noi italiani che risvolti e che conseguenze avremo questa è la prima osservazione domanda è sufficiente ma l'altra molto breve da bar allora i nostri governatori il nostro stato e governo italiano ci fa credere che avremo risorse riserve di luce di gas eccetera in previsione delle bollette altissime dell'inizio dell'anno ci sta insegnando delle metodologie è che la mia povera nonna e mamma nate tutte e due agli inizi del novecento sapevano già cioè si risciacqua la verdura si tiene l'acqua per darle ai fiori un grado in meno di riscaldamento 15 giorni in meno per me sono cose che io ho imparato come credo anche tutti voi da piccolina allora ci prendono per degli imbecilli o no? la questione la domanda e chiude questa se l'Ucraina o chi per essa un bel giorno decide di non fornirci più gas il problema non è l'innalzamento della bolletta ma è che non c'è più gas se non ce n'è possiamo usare poco detersivo spegnere le luci non c'è gas non c'è il termosifone che va andiamo a legna cioè in bar parlano di questi piccoli accorgimenti che credo che tutti conosciamo allora rispondo io allora facciamo due premesse allora gli incontri che facciamo servono a fornire delle informazioni che non non è facile reperire ovviamente la rielaborazione sta a voi questo è il primo punto il secondo punto è se professor Cella per quanto bravissimo avesse le risposte a queste domande non sarebbe qui con noi ma sarebbe a bere un dai kiri a bordo piscina allora quindi adesso gli facciamo dire due parole però è molto importante questo sicuramente rispetto alla prima domanda noi ci occupiamo del passato tutt'al più riusciamo a dire qualcosa per scorgere il presente fare delle previsioni è difficile questo non sta neanche nelle nostre competenze secondo seconda domanda ancora meno sta nelle nostre competenze dedurre le politiche che lo stato italiano debbe trarre dalla crisi internazionale quindi di questo possiamo effettivamente parlare al bar come ha detto lei ma non in un'aula universitaria però sulla prima domanda cioè che prospettive vedi diciamo sul conflitto dal punto di vista dei tempi magari certo qualcosa puoi dire sì allora ringrazio la signora per queste domande no è che dovremmo fare un'altra ora e mezza di video poi tra l'altro mi ha anche mi ha anche visto come una sorta come una sorta di Giano Bifronte cioè che può vedere il passato e il futuro io la ringrazio per così credere in me a questo punto ecco però sì no allora silenzio anche un attimo per cortesia allora come può finire allora facciamo worst case scenario peggiore scenario possibile si sta parlando di scontri continentali ovviamente ci auspichiamo tutti che qualcosa del genere non si inneschi guardiamo allo scenario più roseo quello delle negoziazioni allora qui innanzitutto diciamo una cosa ci sono due traiettorie che stanno andando in atto oggi una dal lato ucraino c'è una proiezione militare molto forte anche di successo relativa ma ultimamente di successo con queste controffensive che hanno segnato una battuta d'arresto per i russi ok gli ucraini che stanno riprendendo il loro territorio che stanno combattendo per la loro sovranità è ovvio che più l'appetito viene mangiando cioè più occupi più vuoi occupare per riprendere il più possibile i territori i russi dall'altro lato sono una potenza ancora si percepiscono come potenza adesso in crisi tutto quello che vogliamo però si percepiscono quantomeno ancora come una potenza nello scenario globale i russi come psicologia loro tra l'altro hanno fondamentalmente la gloria di essere visti come una potenza è importantissimo per loro quindi non è che si ritireranno per due battute d'arresto le loro truppe si sciolgono come neve al sole Putin rimarrà farà di tutto per tenere l'occupazione di questi territori salvo che non succede a qualcosa a livello interno in Russia ma questo non lo possiamo sapere questi territori questi quattro oblast che i russi hanno occupato prima militarmente adesso a livello politico legale dal loro punto di vista con l'escamotage di questi referenda cosa che tra l'altro non è inedita nella storia post sovietica dei russi ci sono state situazioni similari cosa fanno è un escamotage per dire chi attacca questi territori e come si attacca il territorio sovrano russo di Pietroburgo Mosca abbiamo visto quando gli ucraini hanno bombardato il ponte di Kersh la risposta russa qual è stata tra l'altro coincisa anche con l'arrivo del nuovo generale Suravikin o Surovikin per dire l'italiano che è uno che sappiamo che ci va giù molto pesante quindi importante veramente queste due traiettorie sono due traiettorie che ovviamente viaggiano parallele e sono divergenti cioè si scontrano l'uno con l'altro dall'altro lato cosa abbiamo le grandi capitali che finora hanno avuto una voce in capitolo ma sono tutte state un po' diciamo sul voglio essere protagonista ma non troppo perché tutti hanno i loro vantaggi i turchi da questa situazione hanno vantaggi e grandi svantaggi infatti negoziano molto perché il Mar Nero è pure casa loro è sfera di influenza turca e la Crimea la Crimea con i tatari crimeani ho spiegato prima brevemente i turchi vedono i tatari come loro protetti erano le truppe della sublime porta dell'impero ottomano no islamici legati quindi a un islam turco turcofoni eccetera eccetera dall'altro lato noi sappiamo anche una cosa diciamolo per come potrebbe finire il conflitto le questioni negoziali i russi vogliono negoziare con gli Stati Uniti i russi vogliono essere visti alla pari vabbè ormai è un po' dura ma loro vogliono essere visti alla pari con gli Stati Uniti negoziare non con l'Europa non con la Francia di Macron addirittura hanno coniato il termine macronate per dire delle telefonate in cui si parla non si dice nulla e quindi per tutte le telefonate che si sono fatti Putin e Macron dove è uscito poco quindi teniamo a mente tutti questi questi concetti tra l'altro perché ci sono state tutte queste questo affanno militare ultimo tra ucraini e russi a conquistare andare a fare il massimo perché fra poco arriva il freddo e il freddo in Ucraina si porta dietro il generale Fango che in Ucraino è noto come Rasputizza cioè questo congelamento delle terre che rende le terre rimolli e quindi capite le conseguenze di muovere di muovere i mezzi militari i cingolati eccetera i caroarmati e tutto in un terreno del genere detto ciò bisogna vedere seppure la Rasputizza fermerà la ferocia di guerra perché non è detto oggi il ministro della difesa Austin ha detto io mi aspetto grandi riconquiste ucraine durante l'inverno e settimana prossima e qui chiudo ci saranno le esercitazioni nucleari dell'alleanza atlantica che verranno fatte comunque ecco voglio dire quindi la tensione io penso che per le prossime settimane rimarrà veramente veramente alta sulle bollette lascio do la parola a Mirko perché insomma dato quale governo perché quale governo quello passato quello appena insediato si oggi prego prego io mi avvalgo della facoltà di non rispondere se c'è qualche se c'è qualche altra domanda c'è qualcuno se non c'è faccio io una domanda c'è una domanda là in fondo no allora facciamo un'ultima domanda per poi chiudere ti faccio io una domanda Giorgio che è questa volevo che ci accennassi un po' rimanendo all'ultima fase della tua analisi cioè quella del periodo post sovietico un po' anche guardando le cose dall'altro punto di vista cioè non da quello russo ma da quello ucraino un po' i processi di decomunistizzazione derussificazione in Ucraina sono stati rispetto ad altri territori del mondo post sovietico molto peculiari cioè molto ondivaghi diciamo ecco se ci parlavi un po' di questo sì allora lì bisogna vedere un po' anche ai diversi governi che si sono alternati in Ucraina dal 91 in poi come sai ci sono state delle differenze abbastanza cioè ci sono state delle linee di continuità ma anche di discontinuità e questo dipeso anche dall'origine del leader Yanukovic ad esempio era un leader più filo russo e veniva dal Donbass Kuchma e gli altri Zelensky Zelensky ad esempio ecco diciamo una cosa su Zelensky interessante io ero osservatore Osce nelle elezioni del 2019 in Ucraina due terms due elezioni ciclo elettorali nelle elezioni che ha portato alla presidenza Zelensky al tempo vi do questa notizia Zelensky era visto come il presidente per la pace cioè era colui che nei suoi e nelle sue pubblicità sui social faceva degli advertisement di riconciliazione con la popolazione del Donbass lui stesso è un russofono anche epreo tra l'altro che è una peculiarità per un presidente ucraino già il vicepresidente anche egli incontrai in Ucraina Groisman era della comunità ebraica comunque diciamo Zelensky ha avuto tutte queste peculiarità era il presidente della pace pensate che mi disse io non ci credevo stava facendo delle full immersion di Ucraino al tempo per fare lo speech perfetto allo stadio che doveva essere il duello finale con Poroshenko e stava facendo per l'appunto ecco delle full immersion di Ucraino perché lui è russofono da Kriviri allora cosa dire sì la questione della lingua in Ucraina è stata una delle scintille soprattutto dalla prospettiva diciamo russa del corso così minato post-sovietico dell'Ucraina gli ucraini vogliono far sì che la loro lingua sia la lingua di Stato pian piano soprattutto dopo il 2014 dopo Euromaidan in Ucraina si è sempre parlato russo comunque e voi quando andrete in Ucraina incontrerete dei russi degli ucraini russofoni che magari sono più filucraini di un ucraino ucrainofono cioè questo divide che esiste tra est e ovest che è molto spurio tra l'altro quando si va in Ucraina si vede che non è proprio così è molto molto più liquida e frammentata la questione però la questione linguistica rimane una di quelle issues fondamentali che ritroveremo sicuramente anche nei trattati negoziali ritorno alla mega questione omnicomprensiva della signora che adesso è andata e ci ha lasciato a noi problema da discutere ecco le bollette eccetera nei trattati negoziali riemerge che saranno guardate di una complessità io ci ragionavo già dal 2014 su questi trattati che non ci sono mai stati tra l'altro dopo la fine dell'URSS una atipicità nel corso della storia diplomatica europea gravissima che stiamo pagando ancora oggi chiudo ancora riprendendo le questioni negoziali implicheranno due ordini di ragioni il primo bisognerà ridisegnare gli equilibri post-sovietici e eurasiatici di tutto il fronte centro-orientale europeo questione già di per sé da avere una nuova vestfaglia un nuovo congresso di Vienna no speriamo che si abbevereranno anche dal libro per farlo sto congresso no in futuro c'è tutta la storia ucraina ma io ci sono vado vado seconda questione quindi una macro l'altra micro cioè tutte le questioni comprese quelle linguistiche ecco l'hai chiesto tu comprese le questioni linguistiche e le autonomie all'interno di tutti i territori ormai contesi ce ne sono sempre di più Donbass Donbass allargato Zaporizia Herson Rimea eccetera veramente un ginepraio allora ecco vi lascio con questi spunti di riflessione grazie per l'attenzione allora grazie a tutti che ringraziamo il professor Cella vi invito a acquistare il suo libro vi ricordo che la prossima settimana avremo qui con noi un altro studioso molto bravo il professor Stefano Bottoni che ci parlerà dell'Ungheria e della Polonia quindi degli slavi dell'Ovest grazie 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 grazie